Buongiorno da Mattino 6. Per questo mercoledì 1 febbraio, oggi si ricorda Santa Verdiana. Andiamo a vedere i titoli di apertura dei quotidiani e iniziamo dalle pagine del centro in quelle dedicate alla cronaca su Pescara. In apertura il terremoto, 313 scuole da verificare richieste dai comuni ma non ci sono i soldi e la regione fa un mutuo. E poi la neve sprecata, sole, manto bianco, piste eccellenti ma il turismo in affanno, effetto rigopiano dagli amministratori un appello, nessun rischio, venite a sciare. Di taglio basso il maltempo e il terremoto si tratta per gli aiuti alle imprese. Poi l'abruzzo, calo demografico, meno nascite, spopolamento. Sul Mona traffico di armi, fermato pardi. Di taglio basso Chieti catturato con 45 kg di droga, insospettabile nasconde le sostanze in casa e la polizia lo incastra. Ancora su Chieti il comune mette la tassa anche sui defunti. E poi sulle pagine dedicate a Teramo, maltempo e terremoto si tratta per gli aiuti alle imprese. Invece di taglio basso Teramo, l'incubo, terremoto e attività scolastica. Riaprono domani 21 istituti, in altri 12 di proprietà del comune sono necessari lavori. Si rifà il processo, il fallimento Food Invest annullato in Cassazione. Poi il resort, l'autopsia sono tutti morti sul colpo. L'edizione è dedicata all'Aquila, all'università tra disagi e calo di scritti, progetti per creare lavoro. La rettrice Inverardi dice pronte intese con alcune aziende. Poi su Avezzano all'uno aggredisce in aula un professore. Andiamo a vedere anche l'apertura delle pagine dedicate alla cronaca di Pescara. Verre alla Samp per 4 milioni, la mezzala ai Liguri, ma rimane in prestito fino a giugno. Pianella, speleologo volontario, muore a 39 anni. Vediamo anche titoli di apertura della messaggero nelle pagine dedicate all'Abruzzo. Traffico d'armi, fermato Pardi, sul Mona l'imprenditore accusato di aver venduto materiale bellico a paesi sotto imbargo. Tra le operazioni sospette la cessione di un'eleambulanza convertibile in elicottero da guerra. E poi a Lanciano picchiato, 17enne di lotta studentesca. Rigopiano, quasi tutti morti sul colpo. La strage, la procura sente anche le guide alpine. Poi banda armata sfonde il muro e rapina le poste. Assalto nel giorno di pagamento delle pensioni, dipendenti minacciati. Un colpo da 180 mila euro. L'Aquila si scia a campo imperatore. Poi di spalla ad Alfonso a Mattarella ci aiuti a ripartire. C'è stato un incontro. Il governatore ha illustrato al capo dello Stato i danni provocati dalle calamità. Di taglio alto Giulianova il delitto Cialini, il caldaista agli arresti domiciliari. A Chieti incensurato nascondeva in casa 45 chili di droga. E poi lo sport, il Pescara ospita la Fiorentina, l'ultimo treno per la salvezza. Titoli di apertura del quotidiano La Città, scuole, caos, verifiche alla riapertura. Politici, genitori e comitati più confusi che mai sul da farsi. Oggi le superiori tornano in classe. A centropagina, scarcerato l'omicida Giulianova, il caldaista sconterà la sua pena ai domiciliari. Spiagge, investimenti al palo, il comparto raspera nel superamento della Bolkestein. Di spalla non abbastanza sicure, Mastro Mauro tiene chiuse due scuole. Il caso disperato a Isola non c'è una sola scuola agibile. A Tortoreto, scuola chiusa, pronti gli esposti sui lavori infiniti. Teramo Calcio, mercato chiuso, senza rinforzi in attacco. La nuova punta arriverà dalla Svezia. Di taglio alto, Foodinvest, la Cassazione e la Speranza in malavolta. Nuovo procedimento d'appello sul fallimento. E poi la rottamazione, cartelle Teramo ancora in alto mare. Andiamo a vedere ora i titoli di apertura dei quotidiani nazionali. Iniziamo dalle pagine del Corriere della Sera. L'euro lo scontro, Trump-Merkel, il tesoro risponde all'Unione Europea. Sui conti pubblici, canale aperto con Bruxelles. Il caso l'accusa Berlino, guadagna sulla valuta debole. Calenda dice il protezionismo, frena il Made in Italy. E poi le storie, gli allevatori di Amatrice, la vita nelle stalle, gli animali, il gelo, il futuro. E noi che resistiamo al sisma. La strage di Viareggio, condannati i manager, sette anni, a Moretti. La Repubblica titola strage di Viareggio, sette anni a Moretti, proteste. E poi l'asse PD lega Movimento 5 Stelle per il voto subito. Terremoto Zoran Franca fiscale. Il fatto quotidiano, Moretti, sette anni per 33 morti, ma il governo se ne infischia. La strage di Viareggio, condannato l'ex AD di RFI, ora capo di Finmeccanica. E poi Renzi arriva al 40%, quello dei giovani disoccupati. Dati Istat, l'occupazione, trainata dal precariato e dagli over 50, bloccati dalla legge Fornero. La stampa, lo smog, non dà trego e adesso l'Italia rischia una maximulta dall'Unione Europea. L'emergenza provoca oltre 66 mila morti all'anno. Bruxelles prepara una sanzione da un miliardo. Il messaggero Trump-Merkel sfrutta l'Unione Europea. La Casa Bianca attacca la Germania, usa l'euro debole contro noi e i partner europei. La replica, la BCE, indipendente. La Corte Suprema strategica la scelta dell'ultimo giudice. E poi armi alla Jihad, arrestati due italiani, marito e moglie, convertiti all'Islam. Traffico con Iran e Libia. Libero accogliamo gli islamici e respingiamo i cristiani. Siamo dei masochisti, discriminiamo chi arriva da Est e Sud America e gli immigrati ucraini ci denunciano. Agli avvocati specializzati l'affare del diritto d'asilo frutta anche 100 mila euro al mese. E poi così i neri non si annoiano quanti corsi di sci gratuiti per i profughi. Il mattino, strage del treno, 7 anni a Moretti, Viareggio, condannati gli ex manager. La difesa dice sentenza populista. I reati contestati sono disastro ferroviario e omicidio colposo plurimo. Il deraiamento costò la vita a 32 persone. Il tempo a Roma le armi e gli affari dell'Isis. Fermata una coppia di italiani convertiti all'Islam. Vendevano a Libia Iran anche elicotteri. Avevano contatti con i miliziani che rapirono quattro nostri tecnici. La capitale è minacciata più volte. A centropagina la Lazio prenota il derby di Coppa. Inter sconfitta 2-1 a Milano. Stasera la Roma con il Cesena. L'unità a Viareggio è stata una strage. Oltre 7 anni per la verità sul disastro che uccise 32 persone. Ma c'è il rischio prescrizione tra i condannati e anche l'ex AD di Ferrovie. Oggi a capo di Finmeccanica Mauro Moretti. E poi la scissione PD. Bersani non la esclude. I segretari regionali dicono dai responsabili. Il manifesto disastro colposo. 7 anni a Moretti. La strage di Viareggio. 8 anni dopo. A centropagina la fotonotizia. Fuori dalle scatole. La disoccupazione. Giovanile sfonda il muro del 40%. Lo certifica l'Istat confermando il doloroso declino di un paese. Il governo galleggia sui conti. Pensa alle elezioni e dimentica il futuro delle ultime generazioni. Quello che il ministro del lavoro Poletti vorrebbe fuori dai piedi. L'avvenire. Il muro di Trump. Anche a chi obietta l'arcivescovo di Sant'Antonio. Dice solidali con i migranti. E poi la strage di Viareggio. Condanne per 23-7 anni a Moretti. Il gazzettino e popolari. Consoli torna in libertà. Credito alla fusione più vicina per Vicenza e Montebelluna. Il progetto alla BCE ha lo studio un maxiemendamento di capitale. Lascia gli arresti domiciliari dopo sei mesi. L'ex numero uno di Veneto Banca. Ma non potrà andare all'estero. Il giornale. Sistema in crisi. Anche Draghi. Dubita dell'euro. È allarme vero. Per gli Stati Uniti serve soltanto ai tedeschi il governatore. O si cambia o a picco. Il secolo XIX. 5.000 esuberi. Il piano sciocchi. Sindacati. Misure inaccettabili. Escluse. Genova. E Novi Ligure. E poi sette anni. A Moretti. Per la strage del treno. A Viareggio. Andiamo a vedere ora le pagine del quotidiano. Il centro. E iniziamo dalle pagine dedicate alla nostra regione. L'Abruzzo va a Roma ma il tempo e terremoto si tratta sui rimborsi e sugli aiuti alle imprese. D'Alfonso incontra il presidente della Repubblica Mattarella e del Rio alla Camera. Dice affronteremo in modo efficace queste emergenze. In gazzetta ufficiale 30 milioni per Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Si aspetta un nuovo decreto per le calamità di gennaio. E poi l'agricoltura. Pepe entro febbraio il pagamento delle indennità. Il 20 gennaio il ministro Maurizio Martina è stato a Teramo per rendersi conto del dramma che l'agricoltura sta vivendo con l'80% di danni soprattutto nel settore zootecnico. Al primo punto delle richieste che gli ho fatto ci sono i pagamenti delle indennità compensativa di tutte le misure di superficie e il saldo della PAC 2016. Lui già il lunedì successivo si è arricato a Bruxelles e mi ha assicurato che i superati controlli preventivi entro febbraio quei soldi arriveranno nei conti correnti dei nostri agricoltori. Di taglio basso la salvezza dei tribunali, l'appello bipartisan ai parlamentari abruzzesi in difesa degli uffici di Sulmona, Vasto, Avezzano e Lanciano. E poi il rischio sismico. 313 scuole da verificare, richiesta urgente dai comuni, mancano i soldi per i sopralluoghi e la regione apre un mutuo da 30 milioni. Sul totale di 1.300 istituti solo 280 hanno eseguito esami relativi alla vulnerabilità da terremoto. Primavera delle opere pubbliche dice si sta lavorando per una procedura standardizzata nazionale. E poi l'hanno chiamato l'effetto rigopiano, neve sole ma piste da sci deserte, maielletta in ginocchia e la psicosi da valanghe. La scuola di sci block house ha perso 900 bambini delle gite, gli chalet vuoti e negli alberghi ha annullato l'80% delle prenotazioni. Un disastro. Giancarlo Ferrara dice da 51 anni mai successa una cosa simile, basta bombardamenti mediatici e imbecillerie. No allo sciacallaggio e sì all'ospitalità solidale. I confesercenti ai govara la prima campagna di comunicazione e prevenzione. Gli abruzzesi non hanno bisogno di chi approfitta delle difficoltà per dirottare il turismo. E poi le vittime di Rigopiano, l'ultimo funerale. Montesilvano per Fagliedame e la famiglia Feniello ringrazia. L'autopsia conferma le 29 vittime sono morte sul colpo. Si parla dell'inchiesta sul Rigopiano, traumi, schiacciamento e asfissie. Ecco le cause dei decessi, rilevante il ritardo di quasi due ore nell'avvio dei soccorsi. E poi i business pericolosi, l'imprenditore Pardi e due coniogi fermati per un traffico d'armi. La coppia residente a Pescassero, l'uomo convertito all'Islam, il re degli elicotteri e di Sulmona. Sono estraneo, è una storia grottesca la sua dichiarazione. Il IPM è rinvenuti documenti e supporti informatici che confermano pienamente l'attività di commercio d'armamento con Medio Oriente e Nord Africa. L'indagine è scaturita da un'operazione del giugno 2011 su un esponente del clan dei Casalesi che era in contatto con appartenenti alla mala del Brenta. E poi il personaggio, il manager col mito del lusso che fa affari in Abruzzo. Il imballo un progetto all'aeroporto di Pescara, Roccarasa una champagneria, gli studi negli Stati Uniti, l'amicizia con Cecchigori e l'interesse per il Sulmona calcio. E poi quando fu accusato di avere aggredito un cronista, Spintoni nell'ufficio romano e telecamera distrutta, il filmato di Report fece il Giro d'Italia, ma lui smentì e diffidò tutti. Il giornalista voleva rivolgere delle domande su un presunto commercio di elicotteri per i paesi in guerra e solo l'intervento della polizia ristabilì la calma. L'imprenditore minacciò querele nei confronti di Re 3 e i suoi legali intimarono qualunque testata giornalistica dal compiere ulteriori azioni diffamatorie. La legge elettorale va alla Camera, l'esame dal 27 febbraio, accelerazione di Renzi sul voto in accordo con 5 Stelle, Lega e Fratelli d'Italia. E poi gli scenari, il PD Bersani potrebbe uscire dalla ditta. Se volete cacciarmi dal PD, chiamate l'esercito, avvertiva Pierluigi Bersani tre mesi fa. E invece l'ex segretario mette in conto l'addio alla ditta. E' il terzo dopo Massimo D'Alema e Michele Emiliano a mettere mezzo piede fuori dal partito. La Brexit oggi ha il voto deputati e lord sull'addio all'Unione Europea. La ricerca dell'Istat dice 4 giovani su 10 senza lavoro. Cresce il dato italiano sulla disoccupazione nella fascia tra i 15 e i 24 anni, 40,1%. I sindacati dicono serve un piano straordinario. E poi l'avvertenza ILVA, 5.000 operai in cassa integrazione. Di taglio basso le pensioni, ecco le novità del 2017. Dal 1 maggio entra in vigore l'Ape per le donne prevista, un'uscita agevolata. Viareggio la strage sui binari condannati per Moretti. E allora passiamo invece adesso sulle pagine del messaggero. E cominciamo anche qui da quello che è il quadro abruzzese. Continuiamo a parlare di Rigopiano e dell'inchiesta. La procura sente le guide alpine. Chiesti chiarimenti sul rischio valanghe. Nel mirino c'è la commissione mai convocata. I carabinieri preparano il rapporto. Nel mirino sulla strada del resort è chiusa per neve. E poi in 27 morti sul colpo sotto la pioggia delle macerie. Solo due vittime sarebbero sopravvissute per qualche tempo al crollo dell'albergo. 27 delle vittime del hotel Rigopiano di Farindera sarebbero decedute sul colpo. Le altre due in breve lasso di tempo. La morte in questi casi residui sarebbe stata causata da traumi, sfissia e schiacciamento. Con cause che quasi all'istante avrebbero prima tramortito facendo perdere conoscenze. E poi ucciso le vittime rapidamente. E' quanto emerso a seguito degli esami autoptici effettuati sulle salmi. I medici legali hanno 60 giorni di tempo per consegnare le autopsie. Solo Gabriele D'Angelo e Alessandro Giancaterino, cameriere e maestro dell'hotel, avrebbero perso la vita anche per assideramento. E' questo il parere del medico legale di parte, Domenico Angelucci di Chieti. L'Anci chiede una legge speciale per l'Abruzzo, l'anello forte del territorio, quando ci sono da fronteggiare le emergenze, dai terremoti alle frane, alle strade sommerse dalla neve o dal fango in caso di alluvioni. L'anello debole da esporre al pubblico, l'udibrio quando serve un volto da offrire in pasto agli insulti, alla sete di giustizia che naviga sui social. Per noi inondare le pagine dei giornali e i salotti delle tv. Anche i sindaci abruzzesi tornano a rompere il silenzio per ribadire che scaricare tutte le responsabilità sui comuni, è un gioco al massacro non più sostenibile. Lo hanno fatto ieri attraverso l'Anci regionale, il massimo organo di rappresentanza delle amministrazioni locali presieduto da Luciano Lapene. Tutto lì nel documento di sei pagine che oggi sarà consegnato al sottosegretario, alla presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi. E allora, come abbiamo letto, ieri c'è stata una riunione proprio del Lanci con tutti i rappresentanti e da quello che emerge si richiede immediatamente una legge regionale ad hoc proprio alla luce di quelli che sono stati fatti che hanno interessato la nostra regione. Vediamo. Presidente, dopo quello che è accaduto in Abruzzo, l'Anci chiede risposte concrete al governo, un provvedimento straordinario proprio per la nostra regione alla luce di quanto è accaduto fino a pochi giorni fa. Sì, l'Assemblea dei sindaci del Lanci del 27 a Teramo ha stilato un documento, domani saremmo ricevuti dal Ministro Boschi, illustreremo questo documento. Vogliamo provvedimenti urgenti ed immediati, c'è uno stato di mobilitazione in questa direzione. Intanto i sindaci non vogliono più essere considerati, i terminali di una filiera per cui tutte le responsabilità ricadono in capo ai sindaci. Vogliamo che alcune procedure vengano sicuramente rese più snelle se si pensa che nel rispetto del codice dei contratti per appaltare un lavoro anche in questa emergenza costringe un'amministrazione ad aspettare almeno 6, 7, 8 mesi. Poi vogliamo risorse. È evidente che si sono creati dei buchi spaventosi all'interno dei comuni, buchi che fanno saltare tutte le previsioni dei bilanci. Sì, oltre all'ondata del maltempo che ha steso i comuni, non sono più nemmeno in ginocchio alcuni comuni. Ci si mette su questo una decisione della Commissione Grandi Rischi perché per alcune aree ha creato tanto panico. A questo aggiungiamo un terremoto che non dà tregua. Quindi è evidente che in questa situazione delicatissima per la nostra regione non possiamo assolutamente non far sentire con forza la voce di tutte le amministrazioni abruzzese. Torniamo sulle pagine del centro perché se a livello nazionale si parla di disoccupazione dei giovani in Abruzzo l'emergenza è quello del calo demografico, meno nascite e spopolamento. In otto mesi persi 3.573 abitanti. La maglia nera Ortona e Vasto invece è controcorrente. Giù anche l'area metropolitana. E allora a spiegare il sindaco di Vasto dice che i ragazzi trovano le condizioni ideali, più di 800 nascite nel 2015 e quasi 900 nel 2016. Nonostante la crisi a Vasto si continua a nascere. A parlare è anche il sindaco di Ortona che dice la colpa è della crisi, il punto nascita non c'entra. Il sindaco Vincenzo Dottavio sapeva che Ortona, la città in cui si è registrato il più alto calo demografico, lui risponde no ma posso provare a darne una lettura. Credo sia un problema legato alla crisi dei tempi. I giovani se non hanno una prospettiva è chiaro che ritardano a formare una famiglia e quindi di conseguenza diminuiscono anche le nascite. E poi il bonus bevea le neomamme per incentivare le culle. Sulla pagina di Pescara i conti del comune la città perde 5 milioni per colpa del mercatino. Uno è scaduto a mezzanotte di ieri il termine per votare il bilancio e ottenere i fondi. Raggiunto un accordo solo con Teodoro ma non con Centrodestra e Movimento 5 Stelle. Il mercatino dei senegalesi e forse anche l'ex filanda Gian Maria hanno fatto perdere alla città quasi 5 milioni di euro. La corsa contro il tempo per votare il bilancio entro la mezzanotte di ieri per poter ottenere dal governo il permesso di utilizzare il fondo sperimentale di riequilibrio bloccato dal 2013. Si è rivelata inutile. L'amministrazione comunale non è riuscita a far approvare in tempo il documento contabile e quindi si è preclusa la possibilità di ottenere quell'agevolazione riservata ai comuni virtuosi che avrebbe consentito all'ente di poter aumentare le spese correnti di quasi 5 milioni di euro. E poi noi non rinunceremo alla nuova filanda. Il comitato avverte il sindaco e la giunta. Il progetto per ricostruire l'ex opificio deve andare avanti. E poi un no al rincaro dell'Atari Comfcommercio boccia gli aumenti della tassa. L'assessore al bilancio di odati risponde sono necessari. E poi ancora maltempo e crisi frenano i saldi con vendite a meno 20%. Il sondaggio di Comfcommercio tra i soci dice nel mirino gestione del maltempo e avvio degli sconti in pieno inverno. E poi sempre Confesercenti dice sono a rischio mille posti di lavoro e se per Confcommercio la situazione saldi è difficile per Confesercenti Pescara è irrecuperabile. Tanto da aver convinto l'associazione di categoria ad appellarsi ai sindaci perché chiedano lo stato di crisi per il settore. I saldi rappresentano circa il 30% degli incassi di ogni negoziante e quest'anno sono stati azzerati dal maltempo. Il soccorso alpino è in lutto. Uno speleologo muore di infarto a 39 anni. Andrea Pietrolungo aveva partecipato a 400 missioni nel Terramano bloccato dalla neve. Oggi alle 15 i funerali a Pianella. E poi licenziata il giudice la fa riassumere mandata via con un pretesto al primo caso di estensione delle tutele del Jobs Act in piccole aziende. Schiacciato nella sua auto da un albero miracolato dopo l'incidente un 46enne ringrazia i medici e questa è proprio la foto dove si vede l'auto schiacciata da un albero. I veleni di bussi, il processo, le difese dicono gli imputati vittime da immolare. L'avvocato Padovani contestate accuse grottesche ai nostri assistiti. Angiolini fu nominato nel 1993. Che cosa c'entra con l'inquinamento? E allora noi facciamo una piccola pausa prima della seconda parte e ci vediamo le previsioni meteo di Luca Mennella tra poco. Seconda parte della nostra rassegna stampa. Torniamo sulle pagine di Pescara del Centro. Le scuole più attrezzate contro il terremoto. Arrivano 1,6 milioni di euro. Un finanziamento di 800 mila euro per due istituti di San Silvestro. Lavori anche alla Pascoli, ai nidi, la Conchiglia e la Mimosa. E poi l'Ipsar si presenta. Gli studenti, 5 ore di laboratori, tour guidati e incontri con operatori in centinaia all'open night dell'alberghiero. Montesilvano e il Consiglio Comunale. Possibile azzerare tasse e vecchie multe senza sanzioni. Un'animità sul regolamento che consente di pagare le ingiunzioni dal 2000 in avanti anche fino a otto rate. E poi la banda del buco a spoltore rapina le poste e un bottino da 180 mila euro. Due malviventi armati di pistola hanno rinchiuso i dipendenti nel bagno, hanno prelevato il denaro e poi sono fuggiti via. Il Carnevale d'Abruzzo alla 62esima edizione. A Francavilla, maschere, carri, danze, tre giorni di sfilate e allegria. Il 19, 26 e 28 febbraio torna la tradizionale manifestazione. Patanello guiderà il corteo da Viale Nettuno a Piazza Sirena. Il biglietto costa 5 euro. Andiamo sulla cronaca di Chieti. Come abbiamo letto in apertura è stato catturato con 45 chili di droga. La polizia di Chieti arresta a Montesilvano un incensurato. Il valore della roba è di mezzo milione. Il giovane è stato intercettato sull'asse attrezzato e gli stupefacenti destinati all'area metropolitana. Un'operazione portata a termine dalla questura di Chieti e poi nell'ambito delle indagini sono state spiegate anche un avvio di indagini partito lo scorso mese di ottobre e poi un arresto con un quantitativo davvero enorme. Vediamo. Un'indagine partita subito dopo l'omicidio di Fausto Di Marco avvenuto a Chietiscalo il 9 ottobre scorso. Il quarantenne è sgozzato al termine di una serata davanti a un locale. Dall'in poi gli uomini della questura di Chieti hanno intensificato le attività investigative inerenti la Movida e i locali notturni fino a giungere all'arresto di un giovane pescarese di 33 anni ancora incensurato che in un appartamento di Montesilvano deteneva 45 chili di droghe tra marijuana, eroina e cocaina destinata al mercato dell'area metropolitana a Chieti-Pescara e che avrebbe fruttato 500 mila euro. L'omicidio di Marco è stata l'occasione per fare il punto della situazione sulla criminalità nella nostra provincia e quindi abbiamo iniziato un'attività di prevenzione e soprattutto un'attività info-investigativa che ci ha consentito di conoscere oltre allo stato della criminalità anche alcune notizie che poi sono state negli ultimi tempi debitamente sviluppate. Sviluppando una di queste siamo riusciti a focalizzare l'attenzione su un'autovettura che procedeva dalla nostra provincia in direzione Pescara. L'abbiamo seguita fino alla limitro tra la provincia di Pescara e dal confine tra Pescara e Montesilvano abbiamo visto scendere un giovane per il suo atteggiamento particolarmente nervoso abbiamo deciso di sottoporlo a una perquisizione. La prima perquisizione ha dato esito negativo. Abbiamo però trovato una chiave che conduceva un appartamento alla sua disponibilità e abbiamo trovato quel grosso quantitativo di stupefacente di vario genere tra marijuana 40 kg e eroina brown sugar che si suppone anche che abbia un elevato grado di purezza di 4,5 kg circa 5 kg e 132 grammi di cocaina. Una persona che probabilmente deteneva la sostanza stupefacente ma è possibile che siano coinvolte anche altre persone adesso faremo tutte le indagini del caso ma comunque la persona arrestata non ha particolari pregiudizi. Un'attività quella della questura di Chieti che ha portato alla luce la nuova centralità dell'area dello Scalo in diretto contatto con quella di Pescara. Criminalmente la zona di Chieti Scalo la possiamo collegare a San Buceto, a Pescara e a Montesilvano perché è un tutto unico, un unicum dal punto di vista criminale. C'è stato sicuramente negli ultimi anni con la costruzione del villaggio Mediterraneo, lo spostamento di una facoltà universitaria, praticamente una concentrazione di studenti tutta sullo Scalo e anche l'apertura di locali notturni ha prodotto un aumento di richiesta di sostanza stupefacente. Ancora sulle pagine del centro andiamo a parlare di scuole, scuole che sono rimaste chiuse dopo il terremoto e dopo il maltempo. Il Marconi da oggi tornano in classe, le quinte Penne dopo un mese di stop riprendono le lezioni ospitate nella succursale di San Giovanni. L'istituto tecnico Guglielmo Marconi di Penne è stato costretto a fare i salti mortali per poter far ripartire le lezioni. La sede centrale della scuola frequentata da 209 studenti è stata interdetta dai vigili del fuoco dopo il crollo parziale del tetto a causa delle intense nevicate delle scorse settimane. E allora andiamo a a vedere quello che è stata la situazione attuale a Penne che, come abbiamo letto, è stata vittima di grandi nevicate e già aveva avuto problemi proprio con il terremoto dello scorso mese di ottobre. Vediamo. Dopo un mese di gennaio che ha messo letteralmente in ginocchio l'aria vestina, a Penne si torna a parlare di scuola. Il 18 gennaio, a seguito del terremoto e delle abbondanti nevicate, si è verificato il crollo del tetto dell'istituto Marconi, nella zona già interdetta dopo il sisma dello scorso ottobre. Tantissimi sopralluoghi per far sì che la scuola riparta nel più breve tempo possibile e tante le soluzioni per far sì che le lezioni si svolgano in aule sicure, così come ci spiega la dirigente scolastica Angela Pizzi. Iniziamo da domani, ricominciamo con le classi quinte perché per noi era importante comunque dare un messaggio di ripresa, di tranquillità e di normalità, tra virgolette. Quindi abbiamo pensato prima di tutto alle quattro classi quinte che hanno un esame da affrontare. A partire da lunedì inizieremo con una turnazione un po' particolare che prevede tre turni, anche l'inizio delle attività didattiche per le altre classi, che ne sono quindici che ora stanno fuori. È un peccato lasciare quell'immobile così a morire, senza poterlo ristrutturare. Però soprattutto urge questo intervento perché noi non abbiamo un posto dove andare. La dirigente interviene poi sulla richiesta di avere i MUSP, moduli ad uso scolastico provvisori, e sul decreto fatto dal ministro della pubblica istruzione che andrà a salvare l'anno scolastico degli alunni. Sì, stiamo aspettando adesso una risposta. Questa è una soluzione che sicuramente metterebbe le famiglie, noi e gli studenti in una situazione di tranquillità perché ci permetterebbe di ripristinare la settimana intera di lezione e soprattutto ci permetterebbe di spostarci in blocco. Quindi trasferire direttamente in questi moduli ad uso scolastico provvisorio tutta la sede centrale, compreso gli uffici di segreteria. Sì, questa è una buona notizia perché loro sono soprattutto preoccupati da queste assenze. Il nostro sistema permetterà comunque ai ragazzi di stare a casa in alcuni giorni, ma di continuare a frequentare online. Però sicuramente la notizia del decreto ci fa stare tutti quanti più sereni. Nei prossimi giorni sicuramente l'amministrazione comunale si metterà all'opera per far sì che il palazzo storico dell'Istituto Marconi torni ad essere il fiore all'occhiello dell'area Vestina. Ma sì, il sottosegretario Ghevaroli lunedì pomeriggio sarà sicuramente presente in aula, qui nell'aula consigliare del Comune di Penne, dove abbiamo voluto l'intera istituzione nazionale, regionale e provinciale al fine di garantire una spinta forte a questo problema immenso che ha avvolto il nostro territorio vestino. Ora sulle cronache di L'Aquila, Vezzano, il disagio a scuola, un alunno aggredisce insegnante in classe, le mamme protestano altri episodi in passato, temiamo per i nostri figli, l'Istituto dice solo un paio di occhiali rotti, la psicoterapeuta interviene in alcune famiglie, modelli di riferimento non sempre positivi. E poi ancora cronaca, violentò, mio figlio adesso gira in libertà, Vezzano una mamma racconta, invoca giustizia al vicino di casa, è accusato di pedofilia. Campo Felice, l'elicottero caduto, scelto il perito, l'Aquila, il vaglio della procura e i filmati dell'arrivo del velivolo. Ancora l'Aquila, anziana ricoverata per meningite, l'ASL dice non è contagiosa, il medico dice un netto miglioramento clinico. Sulla pagina dedicata alle cronache di Teramo annullato dalla Cassazione, il fallimento Food Invest Group, i giudici della Suprema Corte accolgono per vizi procedurali il ricorso degli imprenditori malavolta. Dopo nove anni si farà il processo d'appello contro la sentenza del Tribunale Teramano. E poi malavolta dice ora via le denunce penali per revocare le vendite e riavere i beni. È stato scarcerato di Silvestre che va ai domiciliari. Giulianova, il GIP accoglie l'istanza per il caldaista, condannato a 14 anni per l'omicidio di Cialini. Sulle cronache di Giulianova. Di Taglio Pass, Alba Adriatica, Marocchina, Coltella, Untranz poi scappano entrambi alla stazione. Ci spostiamo sulle pagine del messaggero e andiamo sulle pagine dedicate a Pescara. L'abbiamo letto nelle pagine del centro c'era un termine per l'approvazione del bilancio. Era la mezzanotte del 31 gennaio. Ora il titolo è Una città devastata, il bilancio stravolto, seduta a sospesa, trattativa tra maggioranza e opposizione per salvare la possibilità di spendere il tesoretto di 5 milioni. Del vecchio ha riscritto l'elenco degli interventi più urgenti, asfalti da rifare, edifici da controllare e lavori di manutenzione. Fino a tarda ora il braccio di ferro per arrivare all'approvazione della delibera entro mezzanotte. Già sospeso più di un milione per i danni del maltempo si dovrà attingere al fondo di riserva. E tra le novità la Tari più salata insorge Confcommercio, che dice il presidente Danelli le imprese dovevano essere più tutelate in questa fase di crisi. L'assessore Diodati dice rincari contenuti. Le battaglie, i comitati, la Finlanda deve rinascere gli ambientalisti favorevoli a un palazzo sulla riviera nord pur di salvare il sito storico. Il classico, il latino, non ci fa paura la soddisfazione dei ragazzi al d'annunzio per il sorteggio delle seconde prove scritte, evitato lo spauracchio del greco. Allo scientifico è uscita matematica e non la temuta fisica. Il miur dice alternanza e percorso di studi, criteri ispiratori. L'annuncio social del ministero e canale Instagram. L'importante è essere preparati, dice Matricciano. E poi Fabiani della tua sulla filovia non si può tornare indietro. La strada parco e il dirigente dice soldi destinati al trasporto rapido di massa per il comitato è una conferma. Il presidente D'Amico risponde con l'apertura del primo lotto. Le barriere architettoniche saranno eliminate. E poi la tragedia di Rigopiano. slittano i funerali di Faglie d'Ame, sostegno da CGL e Montesilvano. Un colpo da 180 mila euro alle poste. Una rapina mano armata nell'agenzia di Via Gran Sasso a Santa Teresa di Spoltore. Presi i soldi delle pensioni. Due sono entrate alle 8.30 attraverso un buco nella parete. Dipendenti minacciati con la pistola e poi chiusi in bagno. L'allarme è dato dagli impiegati con i telefonini. I carabinieri sperano nell'aiuto delle telecamere. A Montesilvano cartelle esattoriali tolte le sanzioni. La Comardi dice si pagherà in ottorate. In consiglio comunale passa anche il piano sulla trasparenza. Ma è scontro sull'azzeramento della giunta. E poi l'evento. Francavilla si prepara il carnevale. Il 19 febbraio la prima sfilata dei carri. Il sindaco Luciani consegnerà a Re Patanello le chiavi della città. Lavoro. 20 maestri carta pestai. L'Aquila un mutuo di 30 milioni per la sicurezza delle scuole. Stipulato dalla Regione con la CDP per le verifiche. E di primi interventi. Individuati in Abruzzo ben 313 plessi. Di cui bisogna stabilire la vulnerabilità. Il rischio terremoto al centro dell'agenda del governatore D'Alfonso. Ne ha parlato anche con il presidente Sergio Mattarella. Come abbiamo letto in un incontro avvenuto ieri a Roma. Campotosto. Il sisma. Il sindaco emette l'ordinanza di inagibilità della sua abitazione. Campo imperatore. Il ritorno sugli sci dopo le valanghe sostituiti tra l'ICN e l'abbattuti. Domani riaprono gli impianti. Giuliani dice valutiamo se chiedere i danni all'azienda per energia. Si parla di turismo. Capisco l'emergenza meteo della regione. Ma noi non possiamo permetterci simili attese. Vietati i fuori pista. E poi il sindaco, il centrodestra vuole Bertolaso e lui dice grazie ma mi occupo di Africa. Testa di gradimento. Il PD si affida a un suo sondaggio. Sulle cronache di Sulmona un traffico di armi fermato Andrea Pardi. L'AD della società italiana elicotteri accusato di aver venduto materiale bellico a Libia e Iran. Paesi sottoposti ad embargo. Tra le operazioni sospette la cessione di un'eliambulanza convertibile a uso militare. Un'indagata vive a Pescasseroli. L'imprenditore è già noto perché due anni fa ebbe uno scontro con l'inviato di report. E poi la lite nella maggioranza sui lavori della SATIC sulle cronache di Sulmona e il Consiglio Comunale è andato deserto per l'amministrazione e la parola d'ordine è ottimizzare le risorse. Chieti nel laboratorio della droga. 45 kg di marijuana ed eroina. Blitz della squadra mobile. In carcere un 33enne incensurato. Il sequestro da mezzo milione di euro. Lo stupefacente era destinato allo scalo. La polizia dice la domanda sta crescendo. Massimo Moretti nascondeva tutto in un appartamento. Scoperta una pressa per confezionare cocaina. E poi pestato un giovane di lotta studentesca. Il movente politico. Forza nuova aggredito da un gruppo che si è dichiarato antifascista. Erano in sei. Il raid è avvenuto davanti a scuola. Il ragazzo medicato in ospedale per le ferite ha il sopracciglio e la testa. È stata informata la Digos sulle cronache di Lanciano. Andiamo avanti. Su Teramo superiori si torna in classe. Milli chiuso per infiltrazioni. Scatta la protesta al Parco della Scienza. Le mamme dicono i nostri ragazzi a casa. Il sindaco riapre le scuole a Scaglioni e all'istituto magistrale in aula da domani. Sul piede di guerra anche i genitori del comitato delfico. Raccolte 100 firme per ottenere locali alternativi. Brucchi a Roma per chiedere interventi straordinari. Oggi in programma un altro vertice. E poi il post emergenza. Danni per il maltempo si muove la di Consum. Di spalla il fallimento Foodinvest. La Cassazione ribalta la sentenza. Mario Malavolta dice fuori da questa città la giustizia ha un corso diverso. A Giulianova il delitto Cialini di Silvestre va ai domiciliari. Un vero e proprio colpo di scena. Quello che è arrivato ieri per il caldaista. Sessantenne. Sessantenne. Si sono aperte le porte del carcere. L'avvocato ha chiesto e ottenuto un'altra misura cautelare. Considerate l'età del suo assistito e anche le sue condizioni di salute. L'uomo è apparso dimagrita all'uscita da Castroni. È stato accompagnato a casa dalla sua famiglia. A Roseto l'allarme antenna nei pressi del Residence Felicioni. E poi a Giulianova sempre l'ultimo saluto a Marco. Ora fai la pizza agli angeli. Ci spostiamo sulle pagine del quotidiano La Città e vediamo quello che è il quadro dettagliato sul caos delle scuole. Andiamo a vedere su Isola del Gran Sasso. Abbiamo detto che il Terramano è stata la provincia più colpita dal maltempo, dai danni. E a Isola del Gran Sasso si parla di scuole subito in classe nei MUSP e poi il polo scolastico. Il sindaco di Marco è rimasto senza un solo edificio agibile. Nel Terramano è il caso più disperato. La scuola elementare, l'unica ancora disponibile, ora è temporaneamente inagibile. Verrà sistemata entro la prossima settimana. Pronti a tutto, sindaco e cittadini si dicono pronti a pagarsi da soli i moduli provvisori per ospitare le medie. E allora, come abbiamo detto, sono rimasti ancora molti paesi, molte frazioni isolate per la neve. Un'emergenza che in qualche modo è stata al centro dell'attenzione fin quando si è vista la drammaticità della situazione. Soprattutto anche il blackout che ha colpito diverse province d'Abruzzo. Ma esistono ancora dei comuni che si trovano in grandissime difficoltà. E allora un viaggio nella provincia di Terramo per vedere quali sono ancora le conseguenze a distanza di più di una settimana. Vediamo. Il nostro è un viaggio tra i paesi montani del Terramano dopo 12 giorni dalla grande nevicata e dall'ultimo sisma. Un'apocalisse, come la descrivono in tanti qui a Cerchiara o a Isola del Gran Sasso, dove i residenti sono rimasti intrappolati dentro le proprie abitazioni, sommersi da tre metri e mezzo di neve, senza poter aprire la porta di casa, nonostante le fortissime scosse di terremoto e senza energia elettrica, per nove giorni. Una tempesta perfetta che lascia distruzione e dolore. Ora è tutto da ricostruire. Neve e terremoto insieme. Neve e terremoto insieme è stata una cosa paurosa. Proprio la mattina mi sono alzata, prima si sono abbassati un po' i gazebo. Poi appena fatti il terremoto si sono schiacciati. E io stavo qua, non potevano uscire nemmeno dalla porta perché la neve era altissima. Qui è tutto chiuso a San Gabriele. Quando riapriranno i negozi secondo lei? Non lo sappiamo, non lo sappiamo, ancora non sappiamo niente. Che vi hanno detto? Di aspettare e vediamo un po'. La luce? La luce l'abbiamo avuto dopo nove giorni. E nove giorni come avete fatto? Con le candele, con le candele e basta. Non si parlava né a telefono né con niente, noi non sapevamo niente. Cosa avete passato in questi giorni? Allora abbiamo passato un momento apocalittico. Tre metri di neve, col terremoto. Non potevamo uscire fuori senza luce, senza riscaldamento, senza linea di telefono. Proprio guarda è stata una cosa, io credevo che era arrivata la fine. I rigoriferi pieni si sono rovinati tutti perché la luce è stata via quasi una settimana. E adesso che cosa chiedete voi? Chiediamo di interrompere i pagamenti almeno per un po' di tempo, che ne so, che venga qualcuno a vedere i danni che hanno fatto, però qui non viene nessuno. Ritardi nei soccorsi, pali elettrici vetusti, infrastrutture viarie fragili hanno causato disagi inerrabili a queste popolazioni dell'entroterra Terramano. E' vero che le previsioni meteo avevano annunciato nevicate abbondanti, ma ascoltando la gente del luogo si scopre che a memoria di nonni un fenomeno così imponente non si era mai verificato. Signora, lei è di Isola del Gran Sasso, in tanti anni mi diceva che non aveva mai ricordato una nevicata così grande. Non lo ricordo, insomma, pure da bambina, ma ne poteva fare di meno, mezzo metro, diciamo mezzo metro. Una nevicata così è eccezionale. Sì, sì, così mai, io non l'ho mai ricordata, ma non solo io, ci stanno persone di 80 anni mai ricordate una neve di questa. Qual è stato il disagio più grande che avete subito in questi giorni? Che mancava la luce. Gli hanno detto perché è mancata per tutto questo tempo? La luce manca sempre, quando si fa un po' di neve si spessifia delle cabine, traliccia e traliccia. Dovrebbero metterle nuove. I soldi dove sono? E intanto, dopo 12 giorni, ancora si spala davanti casa. Siamo qui a Cerchiara, siamo sotto casa di una coppia di anziani, fratello e sorella, hanno 84 anni. Questa stradina è stata allargata dal comune perché c'era un'emergenza, c'era un malato da portare via. La neve però è stata accumulata contro i garage dei due residenti che non possono prendere la legna per riscaldarsi. E poi c'è la storia del nido del focolare di Cerchiara, una casa famiglia fondata da Don Silvio D'Annunzis che accoglie da anni bambini dai 0 ai 3 anni che una famiglia non ce l'hanno. La mamma di tutti loro è suor Caterina. Nel mezzo dell'emergenza neve i vigili del fuoco le hanno proposto di evacuare con l'elicottero i sette bimbi attualmente ospiti nella struttura. No, è stata la sua risposta, ho bisogno solo di gasolio per riscaldarli, due di loro sono gravemente disabili ed è più prudente restare qui. Lo spettacolo del gran sasso innevato che si gode da questi paesi è mozzafiato. Nel guardarlo ora però c'è diffidenza, ci si sente traditi da questa meraviglia della natura che non ha risparmiato né le case né le vite della propria gente. Ci vorrà del tempo per fare pace con la loro montagna. Scuole sicure a Teramo comunali, ecco l'elenco di dove si torna in classe. Oggi il rientro per le superiori, domani campanella per le comunali agibili e il resto a scaglioni appena pronte. La confusione, l'altro che unità di intenti in commissione di fronte ai problemi di sempre, riemergono le solite contestazioni. Divisioni sul da farsi, scarsa fiducia nella linea adottata dal sindaco. E poi sempre sulle pagine del quotidiano La Città, l'abbazia di Montesante, un esempio di fede rinascita dopo le calamità. Il crollo del tetto della chiesa non ha scalfito l'atmosfera di un luogo immerso nella natura e nella spiritualità. Un patrimonio ferito, il tetto, è venuto giù a causa di lesioni già segnalate dopo il 24 agosto e aggravate dalla scossa del 30 ottobre scorso. La Cassazione riapre la partita food in vesta. Annullata la sentenza d'appello, gli ermellini ordinano una decisione sul ricorso presentato all'Aquila. Dopo una serie di pronunciamenti negativi, si riaccende la speranza per gli eredi del comandatore Aristide Malavolta. La decisione di primo grado del 2008, mai discussa in appello, per una serie di vizi procedurali. Oggi ci sarà un nuovo giudizio. E poi lo Slow Food premia quattro osterie terramane, Borgo Spoltino, Vecchia Marina, Zenobi e Per Voglia. Premiati con una chiocciola per l'autenticità dei cibi. I tributi locali, rottamazione delle cartelle e Teramo è in alto mare. In provincia molti comuni stanno approvando i loro regolamenti. Nel capoluogo ancora non se ne discute da maggioranza e opposizione con i dovuti distingo. Si chiede di discutere del provvedimento ad hoc per le cartelle CERIN. Comune indietro, il provvedimento nasce su impulso del governo Renzi per dare respiro a professionisti e piccole imprese in difficoltà. Con le cartelle arretrate di Equitalia è stato poi esteso a tutte le riscossioni. E poi il sociale stipendi stato d'agitazione alla De Benedictis, sospesi gli straordinari, è chiesto un incontro urgente al prefetto. La provincia, il caso Bolkestein, ha frenato gli investimenti. Le concessioni demaniali, Monticelli dice regione pronta a varare una legge in difesa dei balneatori. Nella proposta che fa riferimento al gruppo di Monticelli c'è una salvaguardia per i titolari delle concessioni che prevede il rinnovo da 6 a 20 anni per quegli operatori che fanno investimenti. La Confesercenti con Antonio Latorre dice bene gli indennizi previsti per chi subentra nelle concessioni. E poi l'appuntamento, il primo incontro per discutere della questione, è fissato per martedì prossimo a Tortoreto. Il carabinieri, il maresciallo Giovanni Candelori va in pensione dopo tanti anni nel nucleo operativo e radiomobile di Teramo ha diretto la stazione di Montorio al Vomano. Pronti gli esposti sulla scuola ancora chiusa a Tortoreto, il comitato dei genitori vuole risposte sulla materna San Giuseppe. Tarricone rassicura, si tratta dell'unica struttura a rischio, se è agibile verrà subito riaperta. Sempre a Tortoreto, centrodestra, affollato, quattro illizza alle elezioni. Tra i papabili alla candidatura a sindaco anche gli ex primi cittadini, Monti e Ricchi. E poi Pagliaccetti e Colleranesco restano chiuse, le scuole non hanno subito danni ma gli indici di vulnerabilità sono troppo bassi in caso di nuove scosse. La soluzione, gli studenti per il momento saranno spostati in altri edifici scolastici ritenuti più sicuri. E poi a Giulianova concessi i domiciliari al caldaista assassino Dante Di Silvestre, condannato in primo grado per l'omicidio di Paolo Cialini, sconterà la pena fuori dal carcere. Le motivazioni a convincere il giudice, le condizioni di salute del sessantenne, l'età avanzata, la buona condotta e la collaborazione nelle indagini. Nel rito abbreviato il caldaista è stato condannato a 14 anni di pena per omicidio volontario. Di spalla sempre Giulianova, all'ospedale Arboretti chiama in causa gli altri gruppi di minoranza. E poi a Silvi il primo strappo della sinistra, stenzione in consiglio sul bilancio, il documento passa con i soli voti del PD che punta il dito contro gli alleati. Le motivazioni per Sel, l'astenzione giustificata dal mancato inserimento nel bilancio di misure per il lavoro. E poi a Roseto degli Abruzzi un comitato per riaprire la scuola di Montepagano. L'amministrazione incontra i cittadini e chiede di presentare un progetto innovativo. Andiamo sulla pagina dello sport con la Lega Pro, Tempesti e Narciso e poi una sorpresa svedese. Non arriva la punta ma un esterno e un portiere bocciato a Branduani e Campitelli dice l'attaccante arriverà dalla Svezia. Per le altre operazioni ufficiali le separazioni con Bulevardi, Capitanio e poi la risoluzione per Manganelli. Domenica però c'è una sfida delicatissima. Il mercato da nove, il presidente Campitelli difende l'andamento del mercato. Ci siamo rinforzati in tutti i reparti, più degli altri. Di taglio basse di lettanti, la Sant'Egidiese è fermata ancora dal maltempo, Sant'Omero a Valanga. Il punto sulle formazioni vibratiane impegnate nei campionati dilettantistici regionali con molti rinvi causa neve. Apriamo la pagina dello sport anche sul messaggero. Iniziamo però dalla Serie A dal Pescara. Provaci ancora Pescara all'Adriatico. Stasera il recupero della gara con la Fiorentina. L'ennesima chance di riaccendere le speranze di salvezza. Ai tanti assenti si aggiungono i probabili forfè di Crescensi e Coda. Contro i Viola l'ultima vittoria abruzzese in Serie A. La squadra di Oddo disperatamente alla ricerca del primo successo per dare un senso al campionato. E poi il mercato è chiusura senza colpi. Verrà la Samp a luglio. Il club di Sebastiani incasserà quasi 4 milioni. Sfumato Cerci dalla Paganese. Preso il baby Carillo. L'Aquila con il Rieti. La gara dell'anno. Oggi il recupero contro la Capolista. Morgia può ridurre le distanze. Una gara decisiva soltanto in caso di sconfitta. Peluso starà fuori un mese e mezzo. Il tecnico valuta un ritorno al 3-5-2. Dobbiamo cercare di avvicinare la vetta. Vediamo le pagine dello sport anche sul centro. Stasera il recupero il Pescara è sempre in emergenza. E Oddo rilancia Caprari. Contro la Fiorentina l'ultimo successo in Ari sale al gennaio del 2013. Gilardino, K.O. Crescensi e Coda in dubbio. Paolo Sousa non si fida. Il Delfino ci renderà la vita difficile. E sfruttiamo le sue lacune difensive. I Biancazzurri alla disperata ricerca del primo successo stagionale nella sfida saltata all'8 gennaio scorso proprio per il maltempo. E poi un mercato chiuso. No alla Juve per Del Sole. 4 milioni per Verri. Il Pescara rifiuta l'offerta dei bianconeri che volevano il baby per la Youth League. La Sampdoria si assicura la mezzala che però rimane in prestito fino a giugno. E poi sempre sulle pagine del centro andiamo a vedere anche la Lega Pro. Mercato chiuso, la rivoluzione Teramo, Tempesti e Narciso sono gli ultimi colpi. 9 arrivi e 12 partenze a gennaio ma non è finita. Potrebbe essere ingaggiato anche un attaccante svedese. La serie di recuperi del Girone. Gila, Aquilarieti sotto gli occhi di Tavecchio. Uno scontro, promozione dopo i disagi per maltempo e terremoto. Prima l'incontro con Ortolano e poi in tribuna ore 14.30 il presidente Figi Cinzi ma il capo dei dilettanti Sibili. I club bruzzesi che hanno subito danni a impianti e attrezzature potranno attingere ad un fondo della federazione. E allora con lo sport concludiamo la nostra rassegna stampa. Prima di salutarci ricordiamo che l'appuntamento con l'informazione del TG6 arriva nella prima edizione alle 14 e invece la rassegna stampa torna domani mattina puntuale alle 7. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Grazie a tutti.